Inghia, ma a che fura c'è che stavo andando stavolta? Ma che le fanno franche qua le jukate di questi tempi? Io che mi avevo un sonno e volevo fare una jukata che mi pare che mi passa il perito? Perché non faccio neanche il numero? Vediamo ora che ci spiega su questo cristiano qua. Senta, mi scusi, siccome mi sono nato un sonno, io non mi arrivo molto a sporchiarmi il numero, ma lei che fa? Le sape smofiare? Sarancio buono! Sarancio buono! Allora mi fa questa contesia, se c'è conto il sonno a lei, ne mette mai le nicchie di lato perché c'è tutta questa foto, non mi rischia che essendo nel mio sonno magari, ne puoi rubare magari le numeri, almeno se ne dici qualche a te, qualche reale, non ce lo posso fare a lei, senza offesa! Allora, ce lo posso contare a lei? Se lo conto? Se lo conto? Se lo conto? Accomencio! Accomencio! Ma non ne mette mai un sette siti? No! Pare che siamo un siti! Per quanto non ne vede nulla! Allora, mi ho sonnato, avusi che stavo scendendo tutto un coppo, sento una voce, l'attuca, l'attuca! Qui ero un fotteolo! No, l'attuca mi chiamo io, guarda il cognome! Ah! Giustamente sentendo il mio cognome, mi giro, e viro un tocco! Un tocco? Perché? Come lo chiamano lei? Un tocco nivoro! Nivoro! Parando fra nuagri, questo tocco arriva, e mi ho scendato la nicchietta perché erano due mesi, aveva una sorta di fungia che un po' savo mettere da lato, e arriva con quella fungia che pareva a squalo, uno che lo chiedeva, e poi lo sapete quando sono, magari uno li vede chiudiciati, e ho visto che arrancava, mi arrancava rapresso, io come ho visto così, lo sapete, parlando con lei, subito mi ho messo a cuore! Scandavo! E ho corruto, ho corruto fino a un bello pezzo, penso! Scandavo! Allora, quando c'era la statua dei garibati, l'avevo presente i garibati? Dove mi ha fatto? Perché, vorremmo se questo l'ho seminato a nicchietta, no? E allora? Dopo io mi giro, quando mi è girato, ho visto due tocchi, due tocchi? Due tocchi neri, sempre neri! Sempre un tocchio, va! E tutti noi che arrivavano, con quelle fungiazze! E allora? Tutti noi mi venivano da presso, arrancavano, e come correvano? E arrivavano! E come arrivavano questi figli? E correvano! E dopo io volevo pensare che mi sono messo a correre! Ma ho corruto, proprio più fott' ancora! Lei correva! E proprio che la bandaciata mi ha chiamato pure nel canarozzo! Davvero? Arrivando dove c'era la standa, dopo la rinascente, non era la standa, Nel momento non ho visto più niente! No, come l'ha fatto? E allora mi giravano ancora, e che vero i tocchi! Come ho visto i tocchi, dopo non ho visto neanche neanche nel luogo! E camminati a correva, correva! Non si poteva di salire lì! Lietto! No, no, non arrivo! Tanto che proprio i tacchi mi intappavano del culo! A lei! E le soremo le ho seminate, non vedo quale sembrava che erano da presso! E poi come mi ha visto appucciare la prima mano della spada, no? Ah! Un altro subito che... Ah! S'ha brancicato nelle cause! Un altro che è sabbiato nella curia! Mi ha visto che c'era l'attenzione strage! Dopo ho capito la situazione! Ah! Poi come ho visto proprio che sabbiano tutto in dos pataseggi! Addirittura! Le schicchi che ho chiamato! Ucci schicchi! Avevo spiegato il palazzo dove aveva! Tanto vede, se ci pensa ancora che ce l'ho conto, C'è la fede proprio che è come la mattina! È diventata panucciarizza! Ancora mi sento proprio fritto! Ho capito, ho capito! Ho capito! Allora lei che numero pensa che ci potremmo mettere? Ah! Già scrive! Ah! Già lei l'ho scritta! Io ci contavo il sonno e lei già la riscrive! Ah! 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 Ho capito! Ah! 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 Senti! Ah! Ah! va bene, ci faccio lo stesso, mi chiedi nessuno sa fare a via dei bolsi, io non c'è il secondo punto, va bene va bene, va bene, ne vedremo, ne vedremo arrivederlo, arrivederlo allora, arrivederlo, arrivederlo prendameli io questi numeri, che non mi sa chioccare 1, 3 e 90, per tutta roba tutti per Palermo, per 10.000 litri, 10.000 litri a quanto c'è me l'esto bestia che vuole fare fortuna, vuole fare, fortuna aspetta che piccoli soldi, sa una cazzo che la cucina è pronta io ne ho fatto fuoco ma che mi racconta mia, lei usava 1 mese io ce l'avevo qua e se adonasse buono ma se adonato, ma ce l'avevo qua ero sicuro che ce l'avevo qua ma non parava l'ecco d'occhistiana attora lo signore che parava con me eh lo caccio quello, non lo so, se ne è andato se ne è chiudo quello, perchè? io lo scippa pattafoglie scippa pattafoglie ah no minchia, anche io mi ho fatto pattafoglie perchè se si assingeva mia ah, questo figlio della russa lo mortevo mi ha fatto il pattafoglio ah certo io ci contava il sonno è bestia io non mi fottevo il pattafoglio ah certo, lei è bestia minchia, ora come mi ritira a casa? c'erano soldi, bestia certo che c'erano i soldi ma allora se è bestia? c'era la pensione dei miei sogni ce l'avevo pagata stamattina e quando c'erano, bestia? c'erano i soldi c'erano i soldi c'erano i soldi c'erano i soldi poca della miseria poca e che vuoi, bestia? l'ho disgraziato se bastia ma... ma io mi chiamo la gente che non ha la canuccia ma non dà la faccia bastia, la canuccia è bestia e come mi ricocchi a casa? mettere i soldi mi muore, mi muore e ricerci la legge, bestia ci ricerci la legge certo no, che c'erano i soldi c'erano i soldi c'erano i soldi fai la pensione e muore muore, muore meglio che muore, bestia mi... lo sape che c'era la ragione? hai certo ma sono bestia per davvero e non dovremmo ora anzi vai a casa e ci ho accanto ne costa ci ho accanto per davvero ne costa e così ci prendo un coppio muore ti arrisco per sempre venga, aiutate se scorda la bestia che bestia quando ci prende la bestia la bestia che bestia diventa più bestia della bestia la bestia che bestia era il resto del resto vediamo su il resto è il resto di